L'incontri dove la gente viaggia e fa telefonare col dopo barba che assa di pioggia nella ventiquattro ore perduti nel corriere della sera nel paio vieni più una cameriera ma perché ogni giorno viene sera a volte un uomo da solo perché è in testa stranica, perché ha paura del sesso o per la smania di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro o perché la vita l'ha già messo al muro o perché il mondo falso è un uomo vero più delle città e dell'immensità se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei vediamo se si può farci amare come siamo senza violentarsi più con negrosi e gelosi perché questa vita è un uomo vero oppure fa un uomo vero oppure fa l'amore per madri che non li hanno mai svezzati per donne che li hanno rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi Dio delle città e dell'immensità se è vero che ci sei, hai viaggiato più di noi vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi ma Dio delle città e dell'immensità magari tu ci sei e problemi non ne hai ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo grazie